Né reduci né sopravvissuti ci siamo e ci presentiamo agli elettori orgogliosi della nostra storia. Il segretario nazionale Enzo Maraio, consigliere regionale uscente, fa tappa ad Avellino per presentare la lista socialista. Dentro due ex sindaci, Peppino Romano di Grotta Minarda, Edmondo Marra di Volturara Irpina, e poi l'arianese Maria Elena De Gruttola, manager culturale, e Silvana Nappi di Monteforte, impegnata nell'associazionismo. Una squadra valida e competente, dice Maraio, in grado di guadagnare un seggio in consiglio regionale. Sarà sicuramente un contributo decisivo, come lo è stato già cinque anni fa. Non molti lo sanno, anche perché noi abbiamo l'umiltà che ci contraddistingue, ma noi siamo stati già decisivi per la vittoria di Vincenzo De Luca cinque anni fa. Quello che io auguro ai socialisti irpini, che sono i socialisti di un'area interna così straordinaria di questa regione, è quella di ritornare a portare un socialista in regione Campania. Nessuna sfida è impossibile, se si lavora, se si prendono i voti, si crea consenso, si è chiari con l'elettorato. E qua credo che davvero i nostri quattro candidati abbiano tutte le condizioni per riportare l'Irpinia in consiglio regionale, l'Irpinia socialista in consiglio regionale. Il segretario non rinuncia a lanciare una stoccata al candidato del centrodestra, Stefano Caldoro, che ha una storia socialista e gli rimprovera, non può stare con Salvini e Meloni. Vedere il buon Stefano Caldoro, al quale io rivolgo l'imbocca al lupo, almeno per evitare che venga doppiato da Vincenzo De Luca, perché mi sembra che l'esito è abbastanza scontato, ma un socialista, senza voler fare analisi del sangue, analisi del DNA, o senza fare contestazioni becere di natura politica, non può stare a fianco di chi sostiene la chiusura rispetto alla solidarietà, il sovranismo, il nazionalismo, l'assenza assoluta di solitaria nei confronti di chi merita, di chi ha bisogno, di chi scappa dalle guerre, che sono gli immigrati, non è socialista chi dà una mano a questa stagione. La stagione della peggiore deriva illiberale che il Paese sta avendo, che si chiama esattamente Matteo Salvini e la Lega da un lato e Giorgia Meloni e Fratelli di Italia dall'altro.